Loredana Bertè ha realizzato un nuovissimo album, un album musicale tutto relativo alla sua ammirazione, alla sua passione che ha nei confronti proprio della musica. Si chiama infatti Libertè, un manifesto così lo avrebbe definito lei stessa, in una recente intervista un disco di inediti che punta a far apprezzare la sua straordinaria voce dopo 13 anni dall'ultimo Baby Bertè. Il reggae dunque va a fare appugni direttamente col punk e il pop rincorrendo però un'anima tipicamente rock. Un successo che sono convinto le arriverà in maniera completa, in maniera però anche decisa per quanto riguarda questo nuovo album che ripeto si intitola Libertè. Un inno, un manifesto, un momento di gioia, un momento di felicità, probabilmente la voglia di far apprezzare ripeto la musica a 360 gradi in cui una persona può andare a piombare grazie alla voce di questa straordinaria cantante italiana. Beh, complimenti dunque a Loredana Bertè con il suo album che si intitola Libertè, un album di inediti musicali che vanno ad essere ascoltati dai più affascinati personaggi che amano la musica. Un saluto al prossimo video.